Gruttaglie entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute SPA, la città delle ceramiche aderisce al progetto Sport di Tutti, Villa Colombo attrezzata e inaugurata, i primi a testare personalmente gli attrezzi, sindaco ed assessore allo sport. In tutto vogliamo sapere quante calorie avrà bruciato? Tantissime, tantissime, il problema non sono le calorie, sono i dolori alle braccia domani mattina, però in questo contesto diciamo che va bene, un buon inizio. Voleva dare l'esempio? Volevo condividere con i ragazzi questa bellissima attività, dare l'esempio e magari fare delle buone pratiche anche perché l'esempio di un giorno non serve, serve tutti i giorni, questo è a disposizione di tutti per potersi esercitare e fare un po' di attività fisica. Sicuramente un bellissimo spazio per lo sport libero, scusate il fiatone, non sono più abituato, però dà la possibilità veramente a tutti di praticare sport all'aria aperta, farlo in libertà. Il progetto Sport di tutti, parchi ideato da Sport e Salute S.p.A., Società dello Stato, deputata alla promozione dello sport e dei sani stili di vita, vede anche la collaborazione di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Un progetto molto interessante e importante che soprattutto in Puglia sta mettendo radici, nel senso che a parte il comune di Grottagli e anche a Manduri e a Carosino per parlare della provincia ionica, ci sono state delle risposte significative. Grazie. 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 Grazie.